Ha trattato i temi della legalità e della giustizia, sensibilizzando giovani e meno giovani al rispetto dei diritti. Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, è stato all'Aula Carradini a Barga per parlare dell'operato degli enti e dei volontari che si muovono contro l'illegalità. L'evento è stato curato dall'ISI Barga e dalla parrocchia e rientrava in una serie di appuntamenti dedicati alla ventisettesima settimana della solidarietà. Don Ciotti con gli studenti ha insistito particolarmente sulla necessità di informarsi e di conoscere per diventare persone più responsabili. Oggi c'è il rischio di molte semplificazioni, di pregiudizi, di facili etichette. Conoscere invece aiuta a scendere in profondità anche per superare molti meccanismi che creano etichette e distanze. Quindi l'accoglienza, il riconoscimento, l'assunzione di responsabilità, la conoscenza per aiutarci a guardarci dentro e guardarci attorno, per aiutarci a essere cittadini responsabili, non cittadini a intermittenza. L'incontro è stato trasmesso in streaming e gli studenti hanno potuto seguirlo anche al Cinema Roma di Barga e alle scuole di Fornaci e Borgo a Mozzano.